Ciao a tutti, come diventare una persona positiva? In questo video voglio spiegarti quali sono i modi, diciamo, fondamentali per diventare una persona positiva. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere tra diversi livelli di abbonamento, abbonamento, gli abbonamenti base per dare un sostegno al canale, per partecipare alle live, e l'abbonamento seminario online per partecipare ai miei seminari online che faccio messi in mente. Ma veniamo al tema, veniamo al tema come diventare una persona positiva. Una persona positiva, una persona volitiva, una persona proiettata al successo. Allora, la prima cosa che devi fare è, diciamo, sviluppare una capacità di ragionamento, sviluppare una capacità di logica, non lasciarti traviare dalle emozioni, perché questo è soltanto un grado di consapevolezza. Se tu hai un grado di consapevolezza, riuscirai ad ottenere una giusta attenzione, da questo punto di vista. Quindi essere positivi è una scelta e dipende proprio da noi stessi, quindi dalla capacità di sviluppare un modo di ragionare anche positivo. La seconda caratteristica è avere un mindset esercitato ogni giorno. Il mindset è l'atteggiamento mentale, quindi dobbiamo sviluppare, le persone positive devono sviluppare un atteggiamento mentale svolto al problem solving, non al problem involving, cioè all'accrescere i problemi. Devi iniziare a vedere le soluzioni ai problemi e non vedere i problemi nelle soluzioni. Terza caratteristica è tenere presente che è la fretta creativa consigliera. Prima di agire devi pensare. Ogni decisione ci deve essere una sequenza pensiero, decisione, azione. La quarta caratteristica di una persona positiva è la capacità di darsi delle emozioni positive. Perché noi comunque non possiamo rinunciare all'emotività, non possiamo rinunciare alle emozioni, dobbiamo imparare a darci delle emozioni e dobbiamo imparare a darci delle emozioni positive. Questo è un altro punto di fondo, un altro punto fondamentale. Se impari a darti delle emozioni positive, riuscirai a raggiungere dei risultati molto, molto interessanti. Questa è un'altra cosa veramente da prendere in considerazione, un atteggiamento fondamentale. Il quinto punto è quello di sviluppare la capacità di liberare lo stress attraverso la meditazione. Tutte le persone positive sono persone in grado di meditare. La meditazione è fondamentale. La meditazione è fondamentale perché ti permette di eliminare degli stress, di eliminare delle situazioni molto negative. La sesta caratteristica è quella della capacità di ridere, perché devi imparare a ridere. E mandi un segnale molto forte al tuo cervello. Mandi un segnale veramente forte e la risata è veramente contagiosa e dà positività. Settima caratteristica è quella di imparare ad analizzare in modo corretto la realtà, avere una visione corretta della realtà, quindi non lasciarsi prendere da facili entusiasmi, ma non lasciarsi neanche prendere da facili sconforti. Quindi analizzare la realtà e cercare di avere una visione corretta in modo tale da poter agire. Più la nostra mappa della realtà è precisa, più avremo possibilità di agire nel modo giusto. Ottava caratteristica è quella di trovare, circondarsi delle persone giuste. Quindi elimina dalla tua vita le persone negative. Scrivi sulla tua porta, vietato l'ingresso ai tristi, vietato l'ingresso ai depressi. È molto importante imparare a circondarsi di persone positive, che possono dare positività, diciamo, alla tua vita, che trasudano cose buone, che trasudano energie, energie positive. Altra, la decima caratteristica fondamentale è quella di conoscere i tuoi valori e allinearti ai tuoi valori. I valori sono le cose importanti, quindi non cedere mai a chi vuole in qualche modo offuscare, in chi vuole in qualche modo distruggere i tuoi valori. Assolutamente no. Undicesima caratteristica è cogli le opportunità, perché, come dire, talvolta nella vita ci sono delle opportunità. La capacità di cogliere le opportunità è veramente un requisito base delle persone positive. Dodicesima caratteristica è evita di decidere quando sei emotivamente coinvolto. Quindi le decisioni mi hanno presa a mente fredda, mai sull'impulso istintivo emotivo, perché questo ti farà commettere dei grossi sbagli. tredicesima caratteristica è controllo i tuoi pensieri. E' importante avere la gestione del flusso dei propri pensieri. Questo è veramente importante, perché i nostri pensieri sono ciò che forgiano la nostra realtà, sono ciò che forgia la nostra vita. Quattordicesima caratteristica è passa del tempo, diciamo, buono. Passa del tempo con te stesso, coltiva le tue passioni, sviluppa le tue passioni. Questo è anche fondamentale, questo. E quindicesima caratteristica è mantienti in forma fisicamente, attraverso l'attività fisica, attraverso lo sport, attraverso una dieta sana. Ecco, questo è fondamentale. Men sana, incorpore sana. Quindi questo è veramente importante. Riesci a fare questo, vedrai che otterrai dei risultati molto, molto importanti nella tua vita. Per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere diversi livelli di abbonamento, gli abbonamenti base per dare un sostegno al canale, l'abbonamento seminario online per partecipare ai miei seminari online che faccio mensilmente. Ciao a tutti.